ben arrivati salve a tutti questo è l'orrendo rise of the dragon era e qui non vedo più il video però mi sono sputtato in partenza ok guardate allora come sempre io tento di farmi una tipa con le codine è una grande passione questo è stato un fail clamorosissimo che sfiora quasi l'orrendo ve lo posso confessare perché oltre a essere l'ala corre male alle braccia storte se volete io mi faccio l'umata tanto sono livello 1 se poi proprio non ci tenete no dai facciamo un pupazzo nuovo non l'abbiamo mai fatto così mi posso un po' esaltare sì c'erano quattro cose ok innanzitutto donna femmina no che cos'è questa è l'orrendo anana che ti danno all'inizio ma fanno la danza del ventre guarda cioè sono brutti più brutti degli hobbits allora ho preso questa adesso non posso prendere un'altra alleanza perché ho preso l'alleanza questo è un gioco pvp non lo dico perché non avrebbe un gioco però prendo gli umani almeno mi danno delle tette questa è l'altra alternativa o gesù comunque no no va bene mago warrior no mago mago non ce l'ho mago con questa razza perciò rogue cleric e questa razza perciò quindi vedo warrior va bene e faccio next qui mi danno delle opzioni delle gran belle tette però eh no vedo che abbiamo la faccia che abbiamo questi capelli dai cosa cerco la coda ok prendo questa lascio tutto così c'è una taccatura un po' particolare però sì no non me ne importa nulla ecco dimmi che posso mettere tette sei sempre il sedio esagerato però è abbastanza personalizzabile dai le super tette che ho l'abilità tutta particolare ok la chiamiamo è abbastanza personalizzabile oraschio k e i a ok entriamo nel mondo si si almeno le tette grandi da guardare questo orribilante gioco ti ho detto fanno un po' l'ansia del ventre si tratta di risvegliare i draghi da un solo però i draghi già ci sono quindi che risveglio e io che ne so il grande drago tipo il grande spirito ah pensavo le sfere del drago tipo il grande giove citazione da ritorno al futuro questo è il gioco dovrebbe caricare anzi in realtà è grande giove adesso mi parte tutta una pippa guardate oh Gesù ti racconta la storia si che voi non sentite quindi andiamo avanti e si infatti bla 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 la potere legge pa 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 uscite qui vi danno questa abilità subito potete imparare questa abilità grazie alla minchia voi risponderete ah devi andare dagli istruttori ho questo regno ah oh Gesù che cos'è scudo ah qui fanno pure tutto la pippa dovete parlare quindi pip 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 oh Gesù non mi piacciono i giochi così ok poi io c'ho sicuro ancora di imparare questa spella ma in vano qui c'è anche l'autolute vai da tizio vai da caio queste sono main quest e sub quest abbastanza basico ok il tizio è di qua lo vedete indicato ma sta spella non la puoi imparare no acquire direct skill o pull case from an instructor io ci provo ho detto k così faccio delle skill per adesso sono queste due skill ok sono entrambe impiegate e ho le actions class skill skill di minchia impara sta skill lo mette da parte un nuovo qui forse c'è una quest mica qua si mi do due quest e ta 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 qual solito allora vi faccio giocare che sono partendo da zone diverse ma sono identiche a quelle che ho fatto con il randito di merda prendi frutti rompi di cazzo quindi qualsiasi razza 6 è uguale questa è la zona iniziale si giro solo questo scudo è imbarazzante è imbarazzante guardate quanto siete brutti e guardate che schifo l'erba che si alza le spalle cosa è successo? ah ho imparato ah mi dice che come vabbè salto anch'io salto tu buttoranno di merda allora ah qui devo raccogliere raspberry forse si devo raccogliere tre raspberry impegnativo vabbè è una classica io mi sarei già otti coglioni non so fuori però for the sake del video o di coving come dicono come dicono le lingue continua ma non mi entusiasmo più guardate direttamente come un video di Guilherme Scilla lo posso dire guardate come un libro di fare poi sono io che cosa? che ricaccio tutte le mie cose peculiarità ricaccio è una peculiarità indigio che pulire tirare fuori oppure ricavare dalla memoria bravo comunque il video di oggi a pranzo mi ha messo sete ma volevo solo dire farvi invidia a proposito di quelli a quali propongono dei corsi di qualsiasi tipo soprattutto se si tratta di life coaching mi dicono che 50 euro è meno di un pranzo io e Rush oggi ci siamo praticamente fatti del male in un ristorante a pranzo per 36 euro quindi non gli credete 35 35 di trattare la penna nell'ano possibilmente sedendosi su un tubolare di cemento armato sei sempre il soldo esagerato no che cos'è quella carnificina lì giù no lo so forse può fare delle quest ammazziamo qualcuno forse no prima devo parlare col tizio qualava un posto forse sai boh ok quindi un sacco di camminare inutile ah si ce l'aveva un posto vero con l'altro pupazzo sto scudo io picchio qualcosa giusto per far vedere come sono le spalle ci può essere un'idea vai vai ok ok l'ho ucciso guardate il loot che è più il famoso loot che è più grande del pupazzino si è una grandissima cassa enorme così mi metto a riposare addirittura lo gioco è di un futilismo ed è perfino in closet beta ci manca che mi bannano l'account o mi ducano l'account perché ho condiviso questa perda vabbè poco male oh sti cazzi tanto dopo sto video non credo che ah adesso c'è il famoso trago ci sono queste cut sheets di una bellezza sembra che c'ha un pannolone questa comunque poi svieni e notate lo scudo staccato dalla schiena si 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 è fluttuante almeno nel video cazzo scusa che devi risvegliare se il drago sveglio non lo so ti sveglio il tuo dolore non ridare non si sveglio ma se sei sveglio ma non lo so vabbè comunque notate che siete caluti di faccia e vi svegliate di schiena io voglio sapere cosa è successo nel mentre non si sa non si sa meglio non indagare una super arma fotonica armi fotoniche guardate non credo di fare nessun altro puntato oltre a prima questo verrà disinstallato dopo questo video perché è veramente guardate questo sarebbe il top a 1650 per 1080 non ce la posso fare con un bambino di 4 anni che può ci fare di 6 di migliori a vanilla mi fa di migliori ne fa di migliori è orrendo sono d'accordo ma vai in culo vai sto cretino si questo è terribile terribile cioè è una quest sempre da questo la quest è la noia ancora la stessa solfa ci hai riproposto io studisco giusto le quest e poi vi salutiamo per vedere che ci siamo arrivati al campo iniziale ok si capisce dove si prendono e dove si ridanno le quest si nel punto di miglior di quest'anno guardi raccordare che avete avuto la visione pure questo è questo che c'è questa specie di tic in avanti mi ha messo mi ha messo mal di mare facciamo come vai diego balliamo adesso vi faccio vedere l'inventario in cui cambieremo spada spero ok che è uguale alla spada che ho prima probabilmente si guarda disegno uguale felicità e avere una spada e non servire una minchia alla felicità come sei canterino questo oggi sarà il video secondo me mamma mia adesso poi dovete abbazzare i dubbies i teletubbies questa specie di croci chiodate poi voglio capire se io qui se io non ho la possibilità di prendere questa spell che cacchio ce l'hai a fare lì andrò da un istruttore adesso per incazzarvi con una biscia con l'istruttore amica sarei un po' troppo statica per i miei gusti però ma sto scudo è brutto brutto è tutto il gioco non mi piace ok ho vinto che cosa hai vinto non lo so sono delle mondezze si bla 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 adesso guardo da un trainer penso che sia capace di trovarlo in questo the beast beach clay rogue da qualche parte per qua gira un po' no verso sinistra di qua warrior c'è anche simbolina guarda essere istruito da sto zombie è uno spettacolo ovviamente non ho i soldi necessari per acquistare le spell hai 61 denari schifosi questi costano un silver 37 bello sei un bellissimo gioco mi devo comprare le spell e non mi fai avere i denari prima o non fai in modo che io li abbia in partenza vabbè ah mi hai portato i sordi gli dice la tipa vabbè sai cosa vi dite signori non ci giocate no brutto non mi piace cacare cacare al cazzo e se lo riesce di dire dopo 11 minuti vuol dire che è grave ok ah sono tutti uguali i personaggi i pg in giro hanno tre facce in croce ok dopo questa orrenda 11 minuti di troppo insomma si di vita sprecati con questo titolo con questa schiena strana che non si capisce ah perché devo visitare l'inkeeper guardate che l'inkeeper è di Mel wow ma vaffanculo figliori noi ci congediamo da voi e alla prossima puntata speriamo con un video migliore ciao 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 ciao